Le emozioni palpabili in volto dei tifosi, in Trentino Alto Adige è febbre targata Napoli e targata Carlo Ancelotti. A Dimaro, sede del ritiro della squadra partenopea ormai da otto stagioni, sta partendo una nuova avventura che porterà il Napoli ad affrontare la seconda della guardia e il campionato di Serie A, la Champions League e l'impegno in Coppa Italia. Sul comunale di Carciato ogni mattina e lo saranno fino al prossimo 30 luglio sono davvero in tanti i tifosi degli esperti di calcio che partecipano agli allenamenti della formazione campana. In questi giorni, presente nella sede del ritiro partenopeo, anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha messo nelle mani di Ancelotti una formazione completa di qualità. Ora bisognerà vedere cosa riuscirà a fare il grande lavoro del tecnico, uno dei più vincenti in assoluto al mondo. La nostra redazione ha avuto il piacere di essere presente a Dimaro con il direttore responsabile di testata, Michele Visco, e di raccogliere opinioni varie, anche quello del collega, giornalista di Sky, Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio. Nel nostro videoservizio, le immagini del ritiro del Napoli. sapete qual è il vero seguito di Cucinello? Ma quale cristiano è cristiana? Quest'anno lo scudetto ce lo fa vincere Carlo, perché quest'anno è l'anno nostro. Parola di Cucinello, 5, 8, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 12,